Grazie Questo è il torrente Solofrana, di sabato sera, abbiamo allestato le forze dell'ordine. Ma purtroppo non è la prima volta che accade questo. Sono 30 anni che le istituzioni si girano dall'altra parte per non guardare questo orrore che accade sul nostro territorio. Vergogniamoci tutti e basta con questi finti proclami. È arrivato il momento di fare una seria e attiva opposizione a questi sversamenti. Buona serata.